Una visita istituzionale per conoscere meglio un territorio nel quale si è insediato soltanto da pochi giorni. Questa è la finalità della visita del nuovo procuratore della Repubblica di Trani, Antonino Di Maio, ai commissariati di Polizia della BAT, partita in mattinata dal commissariato di Barletta. L'appuntamento nella città della disfida è stata l'occasione per il 51enne ex PM di Nicosia, Napoli e Santa Maria Capoavetere per fare il punto della situazione sullo stato delle forze dell'ordine nella provincia di Barletta, Andrea Trani. Lo stato delle forze dell'ordine devo dire che è ottimo, nel senso che c'è molta presenza, un ottimo controllo del territorio, visto delle buone sinergie anche tra le forze dell'ordine, i dirigenti sono tutti di ottimo livello e questo non soltanto per quanto riguarda la Polizia ma anche per quanto riguarda le altre forze dell'ordine, quindi questo mi rassicura. Ovviamente la mia presenza qui vuole anche essere un momento di segnale che si dà alle forze dell'ordine perché secondo me la sinergia funzionale tra la Procura della Repubblica e le forze dell'ordine è ovviamente vitale per realizzare dei risultati ottimali sia come controllo del territorio sia come prevenzione che è ovviamente uno dei miei obiettivi principali. Il giro istituzionale di Di Maio ha toccato anche il cantiere della istituenda questura della BAT e a tal proposto il Procuratore ha ribadito come la realizzazione di tale opera sia necessaria per la sicurezza e il pieno compimento della provincia. Ci sono stati dei problemi tecnici in ordine all'esecuzione, quindi c'è la volontà politica di farla. Questa era la prima cosa che mi premeva verificare. Questo è uno dei miei obiettivi che mi sono prefisso perché appunto la BAT non rimanga incompiuta. è importante che senza togliere nulla quest'ora è attuale, ovviamente, né alle altre forze dell'ordine che ci sia la questura e quindi poi a seguire il Comando Provinciale dei Carabinieri e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Ho già visitato il gruppo di Barletta della Guardia di Finanza dove sorgerà il futuro Comando Provinciale e la compagnia di Trani che all'ultimo piano ha già predisposto i locali per il Comando Provinciale. Soltanto quando questi tre presidi saranno funzionali e funzionanti noi potremmo dire che la BAT avrà un presidio di forze dell'ordine spero sufficiente per garantire una sicurezza del territorio sia rispetto alle pressioni criminogene che vengono dal Foggiano e dalla mafia garganica sia da sud, dalle forze criminali che insidiano il territorio su Molfetta, Terlizzi, Corato e quant'altro.